I danni riconducibili alla sostituzione di alcuni cavi lungo la linea principale dell'Enel si sono verificati quattro mesi fa. Qualche inconveniente successivo al riallaccio dell'energia elettrica ha distrutto numerosi elettrodomestici in cinque abitazioni di Rocca Sicura. I danni più consistenti li ha avuti la famiglia Lepore Lombardi. È saltata la caldaia lasciando al freddo per giorni anche un'anziana di 91 anni. In Tirta anche diversi televisori, lo stereo, il fax, la vasca a idromassaggio e il frigorifero. I proprietari, sapendo che sarebbero stati rimborsati, a spese proprie hanno cercato di far riparare l'essenziale, ma quando è arrivato il preventivo del frigorifero sono cominciati i problemi. Con i soldi della pensione il signor Lepore non è in grado di affrontare questa spesa e del risarcimento promesso non c'è alcuna traccia. Io ho dovuto riparare alcuni pezzi più necessari per andare avanti con la famiglia tipo caldaia, dopo per dieci giorni sono stato senza riscaldamento e così ancora tuttora sto senza un frigorifero. Mi hanno bruciato tutte e due le schede, c'è un preventivo che ci vogliono 840 euro per ripararlo e io non ho soldi. A tuttora io devo fare rifornimento per l'inverno mettendo dentro qualche due pomodorini, qualcosa del genere e non lo posso fare. Devo buttare tutto. Ho dovuto buttare tutto il contenuto precedente, quando si è bruciato. Questione economica a parte, comunque rilevante in tempi di magra come questi, il guasto ha dunque creato numerosi disagi. I cittadini di Rocca Sicura, che hanno subito il danno, si sentono presi in giro. Per mesi hanno atteso in vano una soluzione. L'Enel, dicono, ha anche riconosciuto il danno, ma i soliti palleggi di responsabilità tra la società e la ditta che ha eseguito ai lavori non hanno prodotto alcun risultato concreto. Nessuna risposta, nessunissima risposta. Se ne sono fregati altamente, tutti. Anche telefonando qualche volta nessuno sa mai niente. A questo punto cosa pensa di fare? A questo punto penso di denunciare.